Contro l'abolizione del reato di immigrazione clandestina contenuta nell'ecreto svuota carceri, la lega da battaglia a Palazzo Madama, non solo nell'aula del Senato, con l'ostruzionismo, con un diluvio di emendamenti e dichiarazioni di voto. In tarda mattinata infatti un drappello di senatori del Carroccio, guidato dal capogruppo Bitonci, sale al secondo piano, diretto agli uffici del presidente Piero Grasso. Li occupiamo per protestare, spiegano. La vicepresidente di turno Fedeli ha invertito l'ordine del giorno per anticipare il decreto svuota carceri. Noi avevamo chiesto una conferenza dei capogruppo per discutere il calendario dei lavori, ma ci hanno ignorato. Così è violato il regolamento. I leghisti si affacciano dal piano nobile di Palazzo Madama, dove sono le stanze di Grasso. È un flash mob, spiegano, ma siamo pronti a restare a oltranza. Ma lo staff di Grasso smentisce l'occupazione via Twitter, postando una foto del deserto e ordinato studio del presidente del Senato, che era impegnato fuori. I colleghi senatori della Lega erano seduti nella sala d'attesa dell'ufficio del segretario generale di Palazzo Madama, precisano in una nota congiunta i questori. Ma i senatori del Carroccio portano comunque a casa un risultato. I lavori pomeridiani riprendono tra le proteste dei Cinque Stelle con il rinvio a martedì della discussione sul decreto svuota carceri. Salvini esulta via Twitter. La Lega Nord da sola blocca il Senato per protestare contro la schifosa legge svuota carceri e salva delinquenti. Bene a rendersi mai! E lancia una mobilitazione sabato con siti in davanti a 30 istituti di pena. Il segretario del Carroccio insiste anche contro il ministro dell'integrazione Chienghe. L'intenzione della Lega, spiega, è dire che c'è qualcuno che lavora contro i disoccupati italiani, contro gli soldati italiani, contro i cassi integrati italiani che le pagano lo stipendio. Questo sarebbe razzismo? Chiede Salvini, rispondendo alle accuse, piovute gli addosso dopo i ripetuti attacchi alla Chienghe e l'incontro a Strasburgo con la leader del fronte nazionale francese Le Pen. Perché la Lega cavalca con i fondamentali delle origini, la sicurezza e l'immigrazione, anche il montante sentimento anti-europeista. Fuori dall'euro c'è il nostro rilancio, dice Salvini. Offensiva politica in un momento in cui il Carroccio deve fronteggiare i contraccolpi dell'inchiesta giudiziaria sui rimborsi spese dei gruppi consigliari alla Regione Piemonte. La Procura di Torino ha chiesto di rinvio a giudizio del governatore Cota insieme ad altri 39 consiglieri di diversi partiti. Tra le contestazioni peculato, truffa e finanziamento illecito. Cota non avrebbe saputo giustificare circa 25.000 euro di spese personali rimborsate con i fondi assegnati al gruppo della Lega Nord. Grazie. Grazie.